Uno di Paolo Nicolato a fronte in amichevole ad Ancona, la Germania è campione d'Europa in carica. Sfida di prestigio sulla strada verso l'europeo. Allo stadio del Conero si gioca su un campo reso insidioso dalla pioggia. L'undicesimo la prima chance è per la Germania. Con l'ottimo inserimento sulla destra di Schade, il suo diagonale teso supera carne secchi, ma finisce sul fondo. Diciottesimo, grande occasione Italia, sul corner di Esposito battuto da destra. Colombo colpisce bene di testa, ma a Tubolo si salva in calcio d'angolo. Ventunesimo ci prova Samarzic, bel mancino dai 16 metri, sfera che sfiora soltanto il palo. Al ventitresimo la Germania passa in vantaggio, pallone in area di rigore dalla destra. Cittadini nel tentativo di anticipare l'avversario perde il contrasto con Usain Basic, che rimane tutto solo davanti a carne secchi e non può sbagliare per l'1-0 Teotonico. Ventottesimo risposta degli Azzurrini, punizione di Bellanova dalla tre quarti, ancora Colombo di testa a impegnare a Tubolo, che manda il pallone oltre la traversa. Quarantunesimo, Germania che sfiora il raddoppio, Schade si invola sulla destra e dal fondo pesca ancora Usain Basic. Stop e tiro, respinto in extremis da Pirola. Nella ripresa al cinquantaduesimo arriva il 2-0 tedesco, punizione dal limite sul pallone va Samarzic. Il giocatore dell'Udinese con il sinistro infila carne secchi con una traiettoria imprendibile. 54esimo, Italia vicina al gol, cross da sinistra e colpo di testa di Bellanova, che supera a Tubolu, ma proprio sulla linea salva Tio. Al 55esimo arriva il Tris della Germania, questa volta Schade fa tutto da solo, controllo, dribbling e tiro forte, su cui carne secchi non può nulla. Gli Azzurrini provano ancora al 57esimo, Cambiaghi scappa via a sinistra, entra in aria e serve Colombo, che in spaccata non riesce a superare a Tubolu. Al 65esimo arriva il meritato gol dell'Italia. Su uno spiovente in aria Bellanova di testa serve il neo entrato Cancellieri, controllo di sinistro e colpo vincente di destro per l'1-3. L'Italia insiste, 74esimo, Quagliata, pesca al centro la corrente Cancellieri, botta Mancina di prima intenzione, secondo gol azzurro, quarta rete in under 21 in questo 2022 per l'attaccante della Lazio. 85esimo, l'Italia resta in 10, incertezza di Pirola, cittadini ferma da ultimo uomo malone, cartellino rosso, inevitabile. Poco dopo la Germania segna ancora sulla punizione di Cadra, Bellanova in barriera colpisce con la mano, rigore e secondo giallo. Italia in 9, malone trasforma dal dischetto per il quarto gol tedesco. Dopo 5 minuti di recupero, Dancona finisce 4-2 per la Germania.